...di questo convegno, le brigantesse guerriglieri a difesa di un regno. Un convegno organizzato dall'Associazione PAMA in collaborazione con l'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro e con l'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie. E' stato organizzato proprio in occasione dell'anniversario dei 150 anni dalla morte di Michelina di Cesare. Al nostro tavolo abbiamo tre illustri relatori, il professor Domenico Scafoglio, Fernando Riccardi e il professor Erminio De Biase. Saluto il sindaco di Roccasecca e lo ringrazio per averci concesso l'uso di questa bellissima location, il sindaco di Golfelice, il professor Don Francesco e naturalmente tutti voi. Inizierei subito dando la parola al nostro sindaco che farà gli onori di casa, l'avvocato Giuseppe Sacco.